Villa Belvedere a Cireale qualcosa si muove per l'agonata riapertura e gli esperti hanno depositato infatti la relazione contenente gli interventi occorrenti. Ha riposto un 32enne incensurato sorprese in macchina con ben mezzo chilogrammo di cocaina che al mercato dello spaccio avrebbe fruttato 100 mila euro. A Cicatena la scuola media la storica Guglielmino rifà il look arrivano 140 mila euro per impianto elettrico infissi ed ingresso. Edizione di TG Reporter del 29 settembre ben trovati telespettatrice e telespettatore abbiamo visto insieme i titoli del nostro telegiornale ma ci occuperemo ovviamente anche di altro a decidere come calmerare gli affitti nel centro urbano. Solo in sei si presentano all'incontro promosso dall'amministrazione comunale la carta degli impegni stenta a decollare. Ci trasferiremo poi a Giarre per parlare del piano dei servizi finanziari e scatta l'ora X domani se ne parlerà in consiglio comunale. Poi a Cireale da giovedì e sino a domenica diventa la capitale europea dell'arte fabbrile infatti maestri e fabbri provenienti da diversi regioni europee si esibiranno nella città delle cento campane. Apriamo dunque con Acireale. Apriamo con la Villa Belvedere di Acireale. Novità. Gli esperti hanno infatti prodotto all'amministrazione comunale il carteggio con la prescrizione degli interventi da eseguire. Vediamo insieme. I tempi per l'auspicata riapertura della Villa Belvedere si accorciano. I professionisti incaricati dei collaudi di legge, questa la novità, hanno prodotto il carteggio sui lavori di riqualificazione effettuati con le prescrizioni degli interventi correttivi. Adesso l'amministrazione chiederà alla ditta di intervenire secondo le suddette prescrizioni e tra gli interventi correttivi a quanto pare c'è anche la rimozione del pietrisco. Diverse le problematiche evidenziate nella nota dell'organo di collaudo trasmessa al sindaco di Acireale. In particolare si legge che durante le visite di sopralluogo sono emerse problematiche relative alla pavimentazione di ghiaietto lavico, alla pavimentazione aria giochi, all'impianto elettrico, all'impianto idrico e all'impianto idrico antincendio a pavimenti, ringhiere e opere in ferro e al verde. Pertanto ai fini dell'emissione del certificato di collaudo dovranno essere rispettate tutte le disposizioni prescritte. La villa al momento non è collaudata e hanno prescritto dei lavori da fare per eliminare le criticità che si sono riscontate appunto in questi mesi. Quindi di conseguenza questa relazione di collaudo è stata inviata proprio ieri alla ditta che ha eseguito i lavori, al direttore dei lavori. Ci aspettiamo una risposta in tempi brevi entro comunque una settimana in maniera tale da chiudere questo ragionamento, da sistemare quello che c'è da sistemare all'interno della Villa Belvedere, quanto prescritto appunto dai collaboratori, di conseguenza subito dopo aprirle e farla fruire ai cittadini. Rimaniamo ad Acireale, parliamo però di caro affitti. L'amministrazione comunale ha proposto una vera e propria carta degli impegni ai proprietari delle abitazioni, ma hanno derito al momento solo in pochi. Vediamo. Sgravi sul suolo pubblico per chi chiede un affitto e punti percentuali in meno di IMU per chi offre la locazione di un immobile a prezzi calmierati. Sul caro affitti nel centro urbano di Acireale l'amministrazione si pone come interlocutore tra domanda e offerta nell'ottica appunto di calmierare i prezzi offrendo una serie di agevolazioni. Nasce così la carta degli impegni, ma ci si chiede diventerà mai realtà? Cammino in salita, a giudicare dalla deludente risposta di ieri pomeriggio. Ben 58 gli inviti, tante quante sono le botteghe sfitte poste lungo il circuito del centro urbano, ma il risultato, come detto, è stato assai deludente. Solamente in sei hanno risposto alla chiamata dell'amministrazione comunale, che, come annunciato, vuole portare avanti il progetto di chiusura partecipata del centro storico, ma di un centro storico che deve essere vivo e non pieno zeppo di botteghe sfitte, tristemente chiuse. Da qui la carta degli impegni da sottoscrivere con i proprietari delle botteghe sfitte e gli operatori commerciali invitati ad aderire, secondo accordi economici e contratti tipo convenuti con l'amministrazione comunale. Ad illustrare il tutto ai pochi operatori convenuti ieri pomeriggio al Palazzo del Turismo sono stati il consulente economico del sindaco Salvo Nicotra e il primo cittadino accese Roberto Barbagallo, il quale ha evidenziato quanto sia fondamentale la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Stiamo cercando, ha detto Barbagallo, com'è possibile di incoraggiare chi vuole investire ad Acireale e animare il centro storico. Ci sono degli imprenditori che in questi mesi hanno avuto il coraggio di scommettere. Non chiederemo di svendere le botteghe, ma vogliamo capire se il percorso che proponiamo trova consensi. L'amministrazione vuol farsi mediatore. L'obiettivo è trovare una sintesi tra proprietari e conduttori, agevolando entrambi. Il tutto attraverso la sottoscrizione di questa carta degli impegni che, con queste adesioni, difficilmente vedrà mai la luce. Uno dei temi fondanti dunque di Acireale, tant'è vero che abbiamo voluto sentire anche il parere del condirettore della Conf Commercio Provinciale di Catania. Ci fa piacere che l'amministrazione comunale abbia raccolto la proposta di Conf Commercio che ha lanciato nella primavera di due anni fa durante la campagna elettorale ed è quella di calmierare gli affitti. Una proposta che va riempita di contenuti perché sia allettante e abbia un appeal rispetto ai proprietari. Avevamo proposto che si costituisse un fondo di garanzia per garantire gli affitti per 3, 4, 6 mesi in relazione ai fondi che si hanno a disposizione, degli sgravi tributari a favore delle imprese e poi dovremmo garantire, questo come Conf Commercio ci eravamo impegnati a farlo, anche la promozione di questo pacchetto nei confronti delle aziende anche fuori dalla città di Acireale, ad esempio con Asso Franchising che è associata a Conf Commercio e farlo in modo scientifico, creando una serie di condizione per che tutto questo sia attraente per gli proprietari ma anche per gli investitori. 6 su 58 hanno risposto presente, c'è un disinteresse pressoché totale? Guardi un po' la cosa mi sorprende, non me lo so spiegare perché il Comune non ci è coinvolto in questa fase e ce ne dispiace il fatto di essere stati coinvolti avendo noi lanciato l'iniziativa appunto due anni fa ma poi anche a marzo lo scorso di quest'anno quando il sindaco e parte della giunta è venuta in Conf Commercio a Acireale. Dovremmo creare un pacchetto che sia come dicevo Pocanzi attraente e abbia una pille per i proprietari e le condizioni ci sono, ci sono esperienze in altre parti d'Italia in cui più o meno ha funzionato, non vedo perché non debba funzionare da Acireale, dobbiamo unire le forze, sistemare alcune cose, correggere del tiro e eventualmente proporla in modo convincente. E adesso spazio alla cronaca, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno arrestato un 32enne, aveva con sé in macchina circa 500 grammi di cocaina. Nervoso ed evasivo, tanto da insospettire i militari della Guardia di Finanza che lo avevano fermato ad un posto di blocco a bordo di un Alfa Romeo 147, un comportamento assai strano che ha insospettito i finanzieri che hanno proseguito i controlli sull'automobile nella caserma di riposto, rinvenendo sotto il sedile anteriore del passeggero ben occultato, un involucro in cellofan contenente circa 500 grammi di cocaina pure in cristalli. Dal taglio della sostanza si sarebbero potuti ottenere fino a due chili di cocaina che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 100 mila euro. Sabato scorso, ma la notizia è stata comunicata solo oggi, è finito in manette Giuseppe Mascali, 32 anni di Cala Tabbiano. Secondo i primi accertamenti, l'arrestato, incensurato, proveniva da Catania trasportando la cocaina per cederla a terzi che avrebbero successivamente provveduto al confezionamento delle dosi. Ad una successiva perquisizione domiciliare, la Guardia di Finanza ha rinvenuto altri 6,5 grammi di hashish già confezionati e pronti per la cessione. Strade allagate, caditoe otturate ed anche il crollo di un tetto tegolato di una casa. Il maltempo ieri ha causato non pochi danni e disagi anche a Giarre dove nel primo pomeriggio intorno alle 15 il tetto di un immobile di Corso Matteotti è crollato. Parte del cornicione è finito sulla sede stradale. Solo un miracolo ha evitato la tragedia essendo la strada ad alta densità veicolare. Peraltro il crollo è avveluto nell'ora di uscita dalle scuole. L'immobile, fortunatamente disabitato, è crollato improvvisamente e i danni sono stati giudicati ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di riposto e i carabinieri di Giarre unitamente al comandante della stazione Rosario Torisi. Individuato il proprietario dell'immobile, un commerciante che è stato diffidato dall'ufficio tecnico a mettere con urgenza in sicurezza del fabbricato essendo concreto il pericolo di nuovi crolli. Torniamo ad Acireale dove sono partiti i lavori per l'efficientamento energetico del centro direzionale comunale. Lo scorso luglio l'annuncio, adesso l'inizio dei lavori. Dopo il palazzo di città anche il centro direzionale di Via degli Olivi si mette al passo dei tempi in termini di efficientamento energetico. Sono partiti oggi infatti i lavori del progetto finanziato lo scorso luglio per poco più di 160.000 euro dal mese il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile. Grazie a questo contributo a fondo perduto così il comune di Acireale ha evitato la soluzione iniziale che prevedeva la procedura di indebitamento attraverso l'accensione di un mutuo da 500.000 euro a valere sui fondi Jessica. Nella struttura di Via degli Olivi così verranno sostituiti gli oltre 2.000 corpi luminosi sia interni che esterni con conseguenti risparmi energetici anche in termini economici. Soddisfatto il primo cittadino accese Roberto Barbagallo che ha ringraziato gli uffici e i professionisti che hanno fornito importanti indicazioni per ottenere in tempi rapidissimi il contributo che ci consentirà ha detto di sostituire tutti i corpi luminosi del centro direzionale comunale di Via degli Olivi ed efficientare così dopo il palazzo di città e alcune scuole un altro immobile comunale. Sulla stessa lunghezza d'onda poi anche l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita il comune di Acireale ha dichiarato in una nota fa un ulteriore passo avanti verso la modernizzazione delle infrastrutture pubbliche. Il contributo del Mise si unirà ad altri finanziamenti in arrivo a sostegno delle azioni programmate inserite nel piano d'azione per l'energia sostenibile che renderà a Nacereale una città sostenibile. È un importantissimo contributo a fondo perduto ha poi concluso Ardita che ci consentirà di dotare di lampade a led gli uffici di Via degli Olivi assicurandoci un risparmio enorme in termini economici. E a proposito di lavori nelle strutture pubbliche ci spostiamo ad Acicatena arrivano due finanziamenti che consentiranno la ristrutturazione della scuola media Francesco Guglielmino. Grazie a due finanziamenti da 70 mila euro ciascuno il plesso scolastico di Via Dante Alighieri intitolato a Francesco Guglielmino sede dell'omonimo istituto comprensivo cambierà presto volto. Sono infatti in arrivo 140 mila euro che serviranno per ristrutturare sebbene parzialmente ma sostanzialmente la storica scuola media catenota. Gli assessorati ai lavori pubblici retto da Giuseppe Barbagallo e all'edilizia scolastica guidato da Rossella Strano sono già al lavoro per ottimizzare la procedura che nei prossimi giorni si aprirà con la gara d'appalto. I lavori avranno inizio entro la fine del mese di ottobre e proseguiranno sino a Natale e senza inferire sul calendario scolastico né sul regolare andamento delle lezioni. A seguito due progetti che avevamo presentato ma perché necessitano effettivamente interventi urgentissimi che non si possono più ormai procrastinare. 70 mila euro per la sistemazione dell'impianto elettro, cambio delle plafoniere di tutte le avole di questa storica scuola, scuola Guglielmino in Via Dante Alighieri. Il secondo finanziamento che prevede sempre 70 mila è il cambio degli invissi di alcune porte interne, degli invissi esterni, del cornicione, dell'ingresso, una parziale ristrutturazione che dà ancora più sicurezza ai ragazzi, a persone al docente, a persone al docente e un po' a tutti. Quindi nei prossimi giorni ci sarà l'iniezione del bando di gara, i tempi tecnici, contiamo di poter fare iniziare i lavori entro la fine di ottobre. Questa mattina hanno avuto inizio l'operazione di montaggio del confortevole container postale che in largo, Madonna del Sorriso di Aci San Filippo, prenderà il posto dell'ufficio postale mobile. Il container meglio attrezzato dell'ufficio postale mobile entrerà in funzione tra qualche giorno e lo rimarrà sino al completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'ufficio postale di Piano San Filippo. Adesso spazio alla regia per la pubblicità, a dopo. Ottica Grasso Le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ottica Grasso Adaci Reale, nuovo ampio concept store in corso Italia 122. Adaci Catena, in via matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni. Tottica Il teatro stabile di Acireale presenta la ventiduesima stagione teatrale nazionale 2015-2016 con Vincenzo Salemme, Massimo D'Apporto e Tullio Solenghi, Massimo Ghini e Galatea Ranzi, Iva Zanicchi, Barbara Boucher e Corinne Clery, Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina, Pippo Franco, Guiaielo e tanti altri. Abbonamenti a partire da 70 euro presso Teatro Turiferro, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30 e Grande Albergo Maugeri, dalle 17 alle 20. Infoline 095 98 92 093. Teatro stabile di Acireale, da oltre 20 anni il teatro della tua città. OraGel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di OraGel non attraversa una filiera esterna. Arriva con le barche alle prime ore del mattino nel mercato all'ingrosso di Acitrezza, da dove in poche ore raggiunge OraGel per essere lavorato e proposto in pescheria. OraGel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. OraGel, freschezza e convenienza, al servizio della clientela. Ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. OraGel, l'oro del mare. L'IRMA, con l'adesione al principale CoreLab siciliano centralizzato, ha ampliato la gamma degli esami specialistici. Il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi. Il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica, evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio. La consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto. IRMA, nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari. L'IRMA fa parte delle otto strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'assessorato regionale per la salute. Seconda parte del nostro giornale. Apriamo con Giarre il piano finanziario del servizio rifiuti e all'ordine del giorno, lo era questa mattina in sede di commissione, lo sarà domani in consiglio comunale. Vediamo. Piano finanziario del servizio rifiuti a Giarre. Domani è il giorno X nel quale i giarresi sapranno se continuare a pagare gli importi degli anni passati oppure se vi saranno dei cambiamenti. Il piano infatti stamattina era all'ordine del giorno della riunione della terza commissione consigliare bilancio e finanze preseduta da Carmelo Strasseri, ma i tecnici che erano stati convocati e che avrebbero dovuto chiarire i dubbi dei consiglieri non si sono presentati, rinviando di fatto la questione alla seduta straordinaria di consiglio comunale di domani. Come infatti ricorda il presidente Strasseri, l'anno scorso era stato approvato dal consiglio comunale un emendamento che prevedeva che il calcolo della tassa sui rifiuti fosse frutto di un mix tra i metri quadrati dell'abitazione e il numero dei componenti del nucleo familiare. Il principio seguito era quindi quello secondo il quale chi produce più rifiuti deve pagare di più. Una famiglia numerosa, in base a questo emendamento approvato, dovrà pagare quindi più di un singolo, ma ciò che i consiglieri ancora non sanno è se questo regolamento è stato applicato. Il totale che il comune deve incassare infatti non cambia, mutano solo gli importi tra le utenze, e ovviamente solo le utenze domestiche perché le utenze commerciali valgono altre regole. Qualora non si sia dato corso a questo nuovo regolamento dunque, gli utenti continueranno a pagare proprio come gli anni passati, anche se va detto come la tassa possa essere suscettibile di ricorsi. Rimaniamo in consiglio comunale a Giarre perché il movimento politico Città Viva di Giarre, che in consiglio comunale ha due consiglieri che siedono tra i banchi dell'opposizione, annuncia una mozione di sfiducia al sindaco attraverso manifesti che saranno affissi in città oggi e domani. La mozione sarà presentata in consiglio, ha bisogno di 14 voti, ricordiamo che in sede consigliare oggi la minoranza conta 12 consiglieri. Nella massima assemblea cittadina tuttavia l'atmosfera è definita da molti irrespirabile, da quasi un anno si vive un blocco amministrativo che secondo molti paralizza la città. Domani approfondiremo meglio questo argomento. Rimaniamo a Giarre perché giovedì 1 ottobre partirà il servizio scuola-bus. In particolare saranno attivi gli scuola-bus comunali per gli alunni a venti diritto che ne hanno fatto richiesta nei percorsi previsti dall'ufficio politiche scolastiche. Ma saranno attivati anche i servizi con gli autobus di linea per gli alunni a venti diritto, per il trasporto urbano ed extraurbano. Più precisamente saranno attivate le linee Buda per i percorsi Santa Maria La Strada-Giarre-Riposto, la ditta SAG per i percorsi che interessano le frazioni di San Giovanni Montebello e Macchia, la ditta Zapparato-Risi per i percorsi urbani ed extraurbani. Da Giarre nuovamente trasferiamoci ad Acireale, muro di via Aquiglia. L'amministrazione Barbagallo sta partecipando ad un bando per stimolare la creatività dei giovani. Si intende rendere infatti il luogo meno a meno. Vediamo. La Giunta Comunale di Acireale ha approvato un progetto per dare vivacità al muraglioni in pietra lavica, definito anonimo e troppo grigio nella sua complessiva composizione. L'iniziativa è stata elaborata dall'Assessorato Comunale ai Lavori Pubblici, diretto da Nandarditer, è stato subito presentato all'Anci regionale la delegazione isolana dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, così da poter partecipare ad un bando sulla creatività rivolta ai giovani, la cui scadenza è fissata per la giornata di domani. In pratica si tratta di un o qualcosa di simile a quanto fecero l'Assessore alle politiche giovanili, Nives Leonardo e l'allora sindaco Nino Garozzo, per quanto riguarda proprio il muraglione degradato e ricoperto a più non posso di manifesti abusivi. Il progetto ottenne il finanziamento, vi fu pure la fattiva collaborazione della consulta giovanile, ma poi le previste opere realizzate in ceramica dagli studenti del liceo artistico, a conclusione di uno specifico percorso, furono solo esposte al momento dell'inaugurazione per finire quindi nella sede di Capomulini della consulta giovanile. A tal proposito allora si ebbe un piccolo giallo in quanto la soprintendenza dapprima autorizzò l'opera per poi successivamente fare marcia indietro. Oltre al possibile intervento sul muro che prevede l'allocazione di un murale savente come tematica le tradizioni, l'arte e la storia locale, nell'ambito del progetto accese sono previsti pure contestuali iniziative di supporto rivolte sempre ai giovani. All'Aci Sant'Antonio, oggi nella parrocchia Sant'Antonio Abate, ingresso del nuovo arciprete parroco Don Angelo Milone alle ore 18, l'accoglienza in piazza maggiore del Vescovo di Acireale Monsignor Antonino Raspanti e poi seguirà la solenne concelebrazione eucaristica. Acireale da giovedì a domenica sarà la capitale delle città europee dell'Anello del Ferro. Acireale da giovedì 1 a domenica 4 ottobre diventerà la capitale europea del Ferro Battuto, ospitando la manifestazione L'Anello del Ferro, organizzata dall'amministrazione comunale 10 Reale. Nel corso della tre giorni del festival, le 20 delegazioni di artisti del ferro battuto provenienti da quattro angoli d'Europa e gli artigiani locali maggiormente rappresentativi dell'arte fabbrile, insieme daranno forma e vita al progetto vincitore del Context 2015 Fabri di Pace, un'opera d'arte che diventi simbolo di memoria collettiva, affinché i tragici eventi della guerra non si debbano più ripetere. L'arte della forge sarà quindi portatore e strumento di pace con l'obiettivo di unire e non dividere i popoli. Fornaci on the road, innumerevoli banchetti di artigiani dislocati nelle viuzze del centro storico, dimostreranno al pubblico tecniche di lavorazioni e materiali tipici della nostra tradizione. Le istituzioni scolastiche della città verranno coinvolte in tutte le fasi realizzative dell'evento, dall'accoglienza agli ospiti stranieri, alle visite guidate, all'assistenza convegnistica. La mia bellissima città rappresenta il doc dell'arte del barocco siciliano, e inoltre di grandi maestri di grande nome e di grande professionalità che hanno fatto la Sicilia a livelli grandi. Io giustamente ho 40 anni che lavoro, sono riuscito a portare avanti questo progetto grazie anche all'amministrazione comunale accese, e che oggi giustamente aspettiamo questi grandi maestri di un certo livello che si esibiranno tutti quanti per fare una grande opera monumentale e lasciarla qui in Aceriale. Venerdì 2 ottobre alle 9.30 all'angolo di Paradiso della Villa Belvedere, inaugurazione ufficiale del festival. Il sindaco di Aceriale, Roberto Barbagallo, e la delegazione Acese accoglieranno le 20 delegazioni della Municipalità del Ring. Lo spettacolo di benvenuto sarà curato dall'Istituto Comprensivo Vigo Fuccio La Spina Aceriale. In occasione oggi delle celebrazioni di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, ieri lo stadio Tupparello di Aceriale ha ospitato il Triangolare della Legalità per uno sport più responsabile. Un evento calcistico organizzato dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive e dalla Questura di Catania che, oltre alla presenza di specialisti e mezzi della Polizia di Stato, ha visto confrontarsi sul green della struttura sportiva di Via Pasiano una rappresentativa della Polizia, la compagine dei giornalisti Rai, il team del Club Italia Master, una squadra composta di ex giocatori professionisti di fama internazionale che hanno anche fatto parte della Nazionale Italiana di Calcio. Hanno calcato l'erbetta del Tupparello, così gli ex campioni del mondo Claudio Gentile e Giancarlo Antonioni, ma anche vecchie glorie come l'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, Beppe Baresi, l'indimenticabile Totò Schillaci, ancora Pietro Wirkwood, Ruggero Rizzitelli. Alla fine, manca a dirlo, ha vinto la squadra dell'Italia Vecchie Glorie, premiata dal sindaco dieci reale Roberto Barbagallo, con una targa ricordo. Bene, non c'è altro, diamo dunque spazio al meteo. In Sicilia è probabile il rovescio temporale a partire dalla mattinata di domani, vento da sud-est, temperature comprese tra 17 e 21 gradi centinaia. I mari nella nostra isola saranno poco mossi. Mossi! Bene, il nostro telegiornale termina qui, ma questa edizione del notiziario potrà essere rivista sulla nostra pagina Facebook, Etna Espresso Channel, TG Reporter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie. Grazie.